È chiaro che ci scontriamo con un problema che è principalmente il culturale. Quello che possiamo mettere in campo in maniera congiunta in questi anni lo abbiamo sperimentato. La collaborazione ci può portare anche ad attività di vigilanza, sicuramente può essere un servizio deterrente, le sanzioni possono essere un servizio deterrente, le fototrappole possono essere un'attività di deterrenza, ma è chiaro che la vastità del territorio rende complesse tutte le operazioni di controllo, verifica e sanzione. Noi quello che possiamo fare e cerchiamo di fare quotidianamente è mettere a disposizione del cittadino quanti più servizi è possibile per evitare che poi la gente vada in giro a sporcare il territorio. Le isole ecologiche, le aree di stoccaggio, la raccolta porta a porta, le iniziative diffuse che tutti i comuni fanno in merito ad esempio alla parte organica con le compostiere o altre attività di questo tipo. Questo sforzo comune in maniera collegiale il problema non lo ha risolto, ma è chiaro che lo ha di molto ridimensionato. C'è poi una parte invece che non interessa ai rifiuti domestici, ma interessa ai rifiuti industriali, quelli che vengono dagli scarti alle edilizie. Lì è chiaro che non è una questione di attività sul territorio o nel comune che possono agevolare il cittadino, ma c'è un gesto criminale da parte di chi si adopera in questo senso. E lì solo la collaborazione tra Forze dell'Ordine, Forestale, Associazione Volontariato e Corpi dei Vigili Urbani possono in qualche maniera evitare questi fenomeni. La mappatura di queste micro discariche sul territorio nel tempo c'è. Ci sono delle zone più critiche che, devo dire, tutte in maniera precisa cerchiamo di attenzionare, ma poi i comuni da soli possono fare quello che possono fare perché si scontrano con un quotidiano di lavoro che è importante e con una dotazione organica di personale che negli anni diventa sempre più carente. Ci può aiutare, dicevo in un'altra intervista, la tecnologia. È chiaro che oggi la possibilità di piazzare telecamere che funzionano con sistemi GPS anche a distanza in qualche maniera ci può dare una mano, ma non possiamo da soli controllare un territorio che ha questa vastità e questa diversità tra comune e comune.